ciao ragazzi oggi voglio fare un gioco con voi sono io avete avuto paura è stronzata bentornati a tutti sul mio canale bentrovati benvenuti a questa nuova recensione e halloween il mio canale quindi è perfettamente in tema oggi non possiamo che parlare di halloween kills 2021 la dodicesima opera che parla di mike myers l'ennesimo remake in realtà qui ci troviamo nel secondo film della nuova trilogia che vedrà la fine l'attituto va bene l'anno prossimo 2022 ottobre 2022 che dire ho guardato questo film con enorme attenzione primo perché sono un fan di mike myers naturalmente mi piace tantissimo la figura e quello che rappresenta è un classico dell'horror non possiamo negarlo secondo perché le critiche che stava ricevendo mi sembravano un tantino esagerate io naturalmente prima di fare qualsiasi tipo di valutazione devo guardare il film forse anche squali sulla luna lo devo vedere per giudicarlo non mi fido di quello che dicono gli altri e devo dire ragazzi a me il film è piaciuto veramente tanto vi spiego è un po' come andare sulle montagne russe si passa da momenti di grossa esaltazione a momenti diciamo così di grossa depressione è un po' altalenante la questione però devo dire che i pro superano sicuramente i contro ve ne parlo abbastanza velocemente allarme spoiler se di spoiler si può parlare naturalmente siamo nella metà di una trilogia ed è inevitabile che alla fine il cattivo e la buona debbano sopravvivere per arrivare alla conclusione finale quindi non credo che sia un grandissimo spoiler in realtà però vi parlerò approfonditamente di alcune tematiche del film che mi hanno particolarmente colpito cominciamo allora il film è il dodicesimo del franchise se guardate la ciclo iniziale è brutto perché è un film i titoli di testa vedrete 12 zucche intagliate stile halloween naturalmente che vengono distrutte da fuoco fiamme vengono disintegrate quello è un simbolo che ha inserito avuto inserire il regista per dimostrare che questo in realtà è il dodicesimo film troverete 12 zucche che vengono che vengono distrutte piccola curiosità il regista poi parliamoci chiaro questo david gordon green con tutto il rispetto ma fino a la prima di fare la trilogia di halloween aveva fatto sua maestà aveva fatto strafatti aveva fatto lo spaventa passere non è che abbia chissà quale background alle spalle però fa onestamente il suo lavoro questo lo devo dire con tutta onestà intellettuale cominciamo il film ha i suoi momenti topici fantastici quando naturalmente l'assassino è in scena e massacra tutti a colpi di coltello ascia coltellacci quello che trova praticamente tratta le persone come puntaspilli come sempre stato le massacra nelle modalità più varie e ci sono anche diverse molti particolarmente interessanti come neon spezzati e ficcati nel collo pugnali negli occhi sgozzamenti stritolamenti di testa cose che in realtà agli amanti degli horror piacciono tantissimo sono dei cliché non ci sono grandissime novità però sono fatte davvero davvero bene ci sono delle scene davvero entusiasmanti a me la scena iniziale quella di michael myers che avevamo lasciato nel film precedente intrappolato nella cantina della casa di lori in fiamme si pensava che questa volta fosse veramente finita risorge esce fuori e lo si vede ripreso dal basso con questa casa che sta ardendo alle spalle quindi da questa luce da dietro incredibile che comincia a massacrare a uno a uno tutti i pompieri che sono intervenuti sul posto per spegnere l'incendio nelle maniere più incredibili tra cui per esempio quella famosa sega circolare che viene utilizzata per tagliare le macchine quando si rimane intrappolati dentro che viene presa dalle mani del pompiere e gli viene ficcata praticamente nella testa è fantastica la scena è veramente entusiasmante per non parlare poi della colonna sonora questa volta john carpenter si è fatta dare dal figlio codi hanno fatto un lavoro incredibile è uno dei top veramente del film perché hanno preso la colonna sonora originale hanno fatto un remix quindi hanno fatto delle canzoni sostanzialmente nuove e poi ci sono dei aumenti di tono e di volume talmente incredibili che sottolineano le azioni di michael myers che a me hanno veramente entusiasmato dico veramente la verità quando michael myers esce da questa casa in fiamme e lo si vede con questo fuoco dietro a me ha un po ricordato scusatemi il paragone l'entrata in scena di dart vader in rogo one lo dico e qui lo dico e qui lo nego diciamo così per il resto il film quando michael myers non è in scena perde di vitalità perché in realtà vediamo solamente delle figure che passano davanti e si capisce che sono solamente stabilire chi si è chi sarà la prossima vittima in che modo morirà questo in realtà ci sono anche un paio di personaggi comici che a me sono piaciuti abbastanza come la coppia diciamo così mista che si vede all'inizio di anziani che poi non sono anziani sono truccati sono andata a vedere chi sono gli attori mi sono piaciuti tantissimo sono molto comici ma vengono massacrati subito da michael myers perché non ci si fa non si fa tempo a affezionarsi a un personaggio che immediatamente nella scena dove viene massacrato tranne i bambini che vengono risparmiati diciamo così è stato un po una concessione fatta dal regista non sono di siano antipaticissimi bambini che girano in quella strada ad halloween che sembrano sottovalutare il pericolo che gli altri invece paventano e quindi ostentano sicurezza non vengono toccati purtroppo perché sono veramente talmente antipatici che non si aspetta che ma come si spunti fuori e li faccia fuori in realtà lasciamo stare almeno i bambini non vengono toccati almeno in in questo film la cittadina di addonfield illinois è diciamo così oramai segnata dalla presenza di questo mostro che da 40 anni imperversa e non può essere ucciso evidentemente da mani umane ci hanno provato praticamente tre generazioni di donne gemili cortis la famosissima lori che adesso si fa accompagnare da sua figlia e da sua nipote tre generazioni cercano di fare il possibile ma in realtà possono poco perché lui imperversa ammazzando tutti poliziotti pompieri uomini capiscono che michael maier si è tornato fanno una specie diciamo di seduta di gruppo in un bar ognuno racconta la propria avventura in modo in cui l'ha conosciuto è stato in contatto con lui diciamo così una sorta di terapia di gruppo poi si uniscono quando scoprono che è vivo e sta andando in ospedale dove gemili cortis loro è stata ricoverata e giacino in un letto esanime per andare a finire la sua opera quindi si rega tutta la cittadina in ospedale e lì comincia una caccia all'uomo inutile perché lui non è lì invece in altri posti sta praticamente tornando a casa sua dove abitava da bambino dove in realtà poi entra massacrando una coppia omosessuale che si è trasferita lì e tutti quelli che trova sulla sulla sua strada piccolo capolavoro che mi è piaciuto in ospedale troviamo il precedente michael myers e cioè nick castell al quale è stato affidato questa sorta di cameo lui si aggira in questo ospedale con la maschera di mike myers in mano tutti quanti pensano che sia lui quindi rompono le porte per massacrarlo e lui si butta giù dal decimo piano dove si trova massacandosi sul pavimento quindi un uscito di scena fantastica per il precedente attore che interpretava questo questo personaggio è piaciuta tantissimo questa questa scelta così come diciamo così uno dei punti più bassi che mi ha veramente lasciato di stucco è il fatto che jamie lee curtis venga lasciata praticamente per tutto il film in un letto di ospedale esanime io qui mi sono portato lo snaso eccolo qua vedete lo riconoscete perché mi sono portato lo snaso perché per me c'è un'affinità con animali fantastici due animali fantastici due noi abbiamo giud lo e cioè albus silente incatenato se l'avete visto il film penso che lo sappiate dal ministero della magia che praticamente per tutto il film non fa niente sta così guardando quello che accade intorno senza poter praticamente muovere le mani il personaggio più importante più potente che noi abbiamo è immobile senza poter far niente non fa un cacchio per tutto il film ora quando ho detto questa cosa mi sono lamentato sui forum nelle recensione tutte le sapesse mi hanno detto va bene ma quello è il secondo di cinque film poi vedrà in quelli successivi si scatenerà sarà un inferno la lotta con green devald eccetera eccetera sì ma in questo film perché tenere un attore fermo senza fargli fare niente nemmeno un incantesimo allora noi qui abbiamo a parte mike myers che è il perno del film il personaggio principale naturalmente lori che gli dà la caccia da quando era giovane perché ridurre un'attrice bravissima tra l'altro invecchiata come jamie lee curtis in un letto di ospedale esanime così per tutto il film alla fine sembra possa succedere qualcosa quando lei capisce che michael myers è vivo e sta andando a prenderla si strappa le frappe d'abbraccio si fa una dose di diciamo così una siringa per mettersi su sostanzialmente per rimettersi in forma perché dicevo di andare a ucciderlo io perché sono l'unica che ci può riuscire sembra che possa succedere qualcosa in realtà non succede niente non esce da quella stanza manda figlia e nipote allo sbaraglio e troveremo la figlia che riuscirà bene o male a fare qualcosa perché addirittura riesce a smascherare mike mike myers e lo vedremo di spalle un po di lato con la faccia completamente tumefatta e completamente ustionata che si aggira tra la folla perché lei poi lo attira fuori ci viene da prendere la maschera lo attira fuori di casa e lì c'è tutta la popolazione vengono accesi questi fare delle macchine che sono lì quindi dall'oscurità si passa la luce più totale altra scena bellissima dove c'è tutta la popolazione chi con mazzetta baseball chi con le pistole chi con i fucili chi con i coltelli comincia un massacro di mike myers che viene praticamente disintegrato da pallottole pugnali calci pugni mazzetta baseball eccetera eccetera sembra sia finita la figlia di jamie lee curtis prende un coltello glielo ficca nella qua nella dietro al collo sembra finalmente sia finita quando comincia un'altra cosa mi è piaciuto tantissimo del film che il discorso finale di jamie lee curtis dal letto di ospedale parlando con il poliziotto vecchio suo amico d'infanzia dice mike myers non può essere ucciso da mani umane non è umano lui non è una persona non è una persona malvagia lui è il male è il terrore che abbiamo quando tendiamo di nasconderci un discorso bellissimo dice lui non potrà scomparire mai ce lo ritroveremo sempre dietro anche quando non ci sarà più il male deve morire questa notte se non muore questa notte non ce lo toglieremo più dalle scatole sostanzialmente perché lui è il male che abbiamo dentro di noi un discorso veramente bellissimo che fa capire come michael myers sia qualcosa al di là della umanità non è un uomo non può essere ucciso infatti si rialza non so se è stato massacrato si rimette la maschera e massacra tutti quelli che gli stanno intorno compreso compresa la figlia di jamie curtis che viene attirata in casa perché sembra che al primo piano e che ci sia qualcuno che si affaccia alla finestra ricordiamo che quella è la casa di mike myers quando era giovane sale su non c'è nessuno ma c'è mike myers che la massacra sembra quindi morta e il film finisce così non mi ho detto che c'erano degli spoiler non mi massacrate come ha fatto mike myers sembra che sia finita la nipote fa una fine orribile cadere dalle scale si spezza una gamba non fa un cacchio praticamente la figlia invece molto più combattiva ripeto e sembra aver capito qualcosa questo una cosa che cos'è sono teorie che secondo me hanno un fondo di verità mike myers secondo molti sta facendo quello che fa perché vuole semplicemente tornare a casa dove lo stanno aspettando i genitori come quando era bambino gli dicevano non tornare a casa tardi non ti fermare per salda torna subito a casa lui sta semplicemente tornando a casa e massacra tutti quelli che gli impediscono di tornare a casa sua compresi i due gay che abitavano adesso a casa sua ed evidentemente a casa sua c'è qualcuno qualcuno della sua famiglia ancora vivo e molti dicono che finché tutta la famiglia di mike myers non sarà stata sterminata lui non potrà morire quindi secondo me qualcuno c'è lo vedremo sicuramente o credo nel terzo film perché arriveremo diciamo così alla resa finale riassumendo era necessaria questa trilogia no assolutamente è un modo per cavalcare il franchising secondo me però il primo film è stato molto molto bello e questo non è da meno non è sicuramente bello come il primo scordatevelo però a me non è dispiaciuto ci sono degli spunti interessantissimi scene bellissime la musica è fantastica gli attori sono dei semi dilettanti a parte quelli che noi conosciamo diciamo così e poi realtà passano davanti allo schermo in attesa di essere massacrati quindi non è che c'è un background una storia alle spalle inutile perché durano poco questo è il discorso è un è un macello nel senso che sono destinati ad essere macellati questo non è un film in cui ci si può affezionare un personaggio sebbene divertente sebbene simpatico perché è solo un intraccio per la missione di mark myers che cura di massacrare tutti sostanzialmente quindi evidentemente una comunità traumatizzata che sarà tale anche quando michael myers sarà morto se riusciranno ad ucciderlo nell'ultimo film cosa di cui in realtà dubito perché è diventato più un simbolo che una persona quindi ripeto ci sono degli spunti interessanti a me è piaciuto io vi invito a guardarlo soprattutto se avete visto il primo aspettate l'ultimo come me per trarre una conclusione finale non è brutto assolutamente a me è piaciuto tanto ripeto guardatelo perché ne vale assolutamente la pena il discorso finale di gemelli curtis gli ultimi dieci minuti è fantastico la scena del massacro finale e del massacro iniziale meritano da sole il prezzo del biglietto quello che c'è in mezzo un po lento ci si aspetta soltanto i movimenti di mike myers fra le case fra le persone in che modo muore questo in che modo muore quello questo è vero però tiene fede al personaggio e ci sono delle morti veramente interessanti da un punto di vista visivo che meritano veramente di essere viste io vi saluto torno a mascherarmi almeno mi metto il cappuccio la maschera no vi da appuntamento la prossima recensione alla guida è finito adesso passiamo a vedere altre cose vi ringrazio perché state seguendo sempre più in tanti il canale mi raccomando mettete mi piace condividete soprattutto iscrivetevi che la cosa è più importante perché a me aiuta tantissimo ad andare avanti vi invito naturalmente a condividere video attivate la campanellina vi ringrazio ciao a tutta la prossima